ci vuole il video stranamente non devi lavorare va beh se c'è bisogno di una consulenza allora luca ce l'abbiamo fatto praticamente fatto come una moglie scusa marco guarda sono incasinato con lavoro non riesco a venire fai quello che crede cioè l'ultima volta che ci siamo visti c'era la neve ma io oggi sono un corso ho detto a tutti che andava un corso quindi per cortesia se metti il video pisse sulla faccia ti posso ricattare non fono io ora poi ci vediamo ciao 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 prendi un po un taxi per portare la moglie perché aveva il furgone guasto tutte le scuse sono buone a presto non passa a prendere no 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 ah no credeva che eri mio nipote eh ma tutto un nipote cosa prende beh ormai diciamo che per una parte posso essere definito un nipote no 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 hai letto dei video quando c'è scritto il pupillo no no mai si sa ecco perché tu nipote ormai si è diventato un pupillo ah l'avevi visto sempre la prima volta che vedo un geometra agitato ah 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 bello veramente bello un po più corto però vabbè questa stagione qua è più bella se pensi che c'ho delle gomme di merda da strada a strada davanti oddio saluto un po Claudio Claudio mi fa lavorare come non dico cosa sono uno schiavo qua altro che egizio robe simili e anche in quadro regno Claudio mi riesco a filmare lavorare Claudio secondo me sei buttato a terra quattro litri prima ah 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 ecco Claudio siamo a posto a ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.